Una mattinata come tante per Angelo Carmine Taurasi, 68 anni, pensionato, sposato, 5 figli, quando improvvisamente è stato assalito da un insetto killer che non gli ha dato scampo. Attimi di concitazione, la moglie Carmela Salza chiama il 118 ma in preda alla disperazione, la comunicazione non va a buon fine. Il marito è accasciato al suolo, privo di sensi, viene allertato anche il 112, poi si decide per il trasporto alla guardia medica in auto. Qui l'uomo arriva in condizioni disperate, forse già morto. Accanto al presidio ASL c'è anche la postazione del 118 con la pubblica assistenza. Intervengono tutti, si tenta in ogni modo di rianimare l'uomo, ma ogni sforzo si rivela inutile. L'impegno dei soccorritori è notevole. L'uomo non dà segni di vita e cianotico il suo cuore purtroppo si ferma tra la disperazione dei familiari e l'amarezza del personale medico intervenuto. Dopo i vari adempimenti su disposizione della procura informata dell'accaduto dei militari dell'arma, non essendoci responsabilità di terze persone, la salma viene restituita ai familiari per lo svolgimento dei funerali. Un triste bollettino di morte che si accentua proprio in questi mesi. Almeno 10 italiani ogni anno muoiono stroncati da uno shock anafilattico letale dopo la puntura di api, vespe e calabroni. Degli oltre 5 milioni di connazionali che ogni anno vengono colpiti da un puntiglione solo l'1% allergico al veleno iniettato e soltanto una stretta minoranza rischia la morte. Vespe, api e calabroni hanno un veleno particolarmente abbondante che purtroppo possono causare, come è accaduto in Contrada Piani, anche la morte, anche se non sempre vengono del tutto identificati. Dolore nella comunità grottese dove la famiglia Taurasi dedita al lavoro nei campi e molto conosciuta e stimata in questo fazzoletto di terra del paese per laboriosità e umiltà. Doti che Carminuccio, così lo chiamano tutti in questa zona, un uomo buono e semplice ha sempre mostrato nella sua vita.